Ipotesi di riapertura anticipata rispetto alla data del 18 maggio per il governatore Zaia nel suo quotidiano intervento con la stampa, anche se il problema potrebbe nascere dal trasporto pubblico locale per il quale si teme un'implosione, dato che non c'è il tempo materiale di ordinare il doppio dei treni o il triplo degli autobus, come ha detto, quando tutto tornerà a regime, soprattutto pensando al distanziamento e le regole imposte dal covid. Fra i temi toccati anche le elezioni che lo riguardano molto da vicino ed una ferma convinzione. Il voto a luglio non sia una concessione ma sia un'opportunità in un paese nel quale si parla sempre di più del fatto che ci sarà un ritorno di fiamma del contagio. Considerate che l'attuale finestra prevista è ottobre-novembre, il che vuol dire che se siamo in pieno contagio non si va più a votare.